va bene, allora come accennato riprendiamo l'argomento sulle liste andando a puntualizzare alcuni elementi che la settimana scorsa non abbiamo avuto tempo di toccare, di approfondire però è utile vedere con calma per poi aggiungere qualche informazione in più qui un'altra volta abbiamo già scorso velocemente alcune voci di questo elenco di quali sono le operazioni di base da fare sulle liste usando le funzioni e i metodi offerti da Python oggi vorrei soffermarmi su tre punti di questi che abbiamo sorvolato, non abbiamo ancora trattato ma che mi sembra utile ragionare quindi su molti di questi, come ad esempio la costruzione di una nuova lista usando append chiaramente già lo conoscevamo abbastanza bene la volta scorsa ma vorrei, quindi anche qua ricordo solo scorrendo le slide che anche la volta scorsa abbiamo visto le due operazioni di join che ci permetteva di passare da una lista, in questo caso una lista di nomi a una stringa in cui tutti questi elementi della lista fossero concatenati e nel suo inverso l'operazione di split che invece prendeva un'unica stringa e mi permetteva di dividere questa stringa in una lista che contenesse appunto le singole posizioni una cosa che non avevamo citato la volta scorsa dunque volevo solo trovare dove è scritto vabbè qui non c'è scritto nel senso che se alla funzione split ah è scritto qua sotto scusatemi la volta scorsa abbiamo visto come alla funzione split passo un parametro che può essere appunto la virgola per dire come sono separati e qual è il carattere separatore però avevamo anche visto che se dentro i numeri ci fossero stati ne so virgola spazio poi quello spazio ce lo trovavamo nel risultato perché ovviamente la split taglia solamente dove c'è il carattere che gli ho specificato ecco un caso particolare dello split è quando invece non specifico alcun carattere separatore come è indicato qua sotto aperta tonda e chiuso tonda quindi non c'è nessun carattere separatore specificato e allora lei si comporta in modo leggermente diverso innanzitutto se il separatore non è specificato allora lui automaticamente considera come separatore il carattere di spazio oppure una qualunque sequenza di spazi quindi in questo caso nel caso in cui gli elementi siano separati da spazi possono lavorare o split senza la necessità di specificare il parametro appunto spazio qua dentro il valore della stringa spazio ma lasciando vuoto, lasciando sottinteso e vengono divisi così il vantaggio è che anche nel caso in cui ci fossero più spazi in mezzo ma questo comportamento, questo caso particolare vale solamente nel caso del spazio quindi non può funzionare con le virgole o altro funziona solamente se non specifico nessun elemento tra le parentesi tonde allora questi spazi vengono automaticamente eliminati quindi ripulita la stringa e divisa diciamo così negli spazi, nelle componenti separate da uno o più spazi quindi questo può tornare comodo nel caso in cui avessimo dei dati separati da spazi e quindi può diciamo così velocizzare anche l'inserimento dei valori mentre invece se il separatore non è uno spazio non posso usare la forma senza argomento dovrà usare la forma con un argomento e allora a questo punto lui sarà preciso separerà esattamente nella posizione di quel carattere specifico di separazione ok volevo spendere uno dei tre argomenti su cui volevo spendere un po' di tempo è quello della ricerca perché poi molto spesso dobbiamo prendere una lista e cercare degli elementi che abbiano una certa proprietà ok abbiamo già visto la volta scorsa come si faceva a cercare un elemento noto cioè se io cerco se in una lista c'è il valore 7 posso usare la sintassi in if 7 in il nome della lista oppure usare index che mi dice lista.index tra parentesi 7 mi dice dove si trova quell'elemento ok quindi abbiamo un primo caso particolare in cui proviamo magari a farci uno schema riassuntivo uno schema di massimo metto qua un blocco note tanto per prendere due appunti quindi ricerca in una lista io che cosa posso ricercare cosa possono chiedermi di cercare io posso ricercare un valore specifico ok quindi in questo caso esempio andiamo un po' 7 come dicevamo no? la lista ad esempio questa lista la chiamiamo e chiuditi parentesi la chiamiamo elenco come nome della variabile allora se io voglio ricercare un valore specifico che cosa posso voler sapere? voglio sapere se c'è o non c'è oppure voglio sapere dov'è dov'è oppure voglio sapere quanti ce ne sono di questi valori specifici allora queste sono cose che possiamo fare facilmente usando direttamente le funzioni funzioni predefinite di python voglio sapere se c'è un certo valore specifico allora andrò a vedere se if 7 in elenco uso l'operatore in che mi dice vero o falso se quell'elemento che sto cercando è presente nella lista poi al posto di 7 ci potrà essere il valore che sto cercando al posto di elenco ci sarà la lista che contiene i valori dentro cui li sto cercando questa può essere una lista di numeri può essere una lista di stringhe funziona nello stesso modo se voglio sapere dov'è posso usare la funzione index la posizione sarà elenco.index di 7 questo l'abbiamo visto la volta scorsa attenzione che funziona solo se sono sicuro che ci sia che ci sia se non fossi sicuro che ci fosse allora dovrei prima controllare se c'è e in caso affermativo poi estrarre la sua posizione quindi in questo caso dovrei fare qualcosa del tipo if 7 in elenco allora potrò calcolare trovare la sua posizione questo perché perché la funzione index nel caso in cui l'elemento non ci sia non venga trovato genera un errore e genera un errore interrompe l'esecuzione del programma qua poi quanti ce ne sono quanti elementi ci sono quanti 7 ci sono all'interno del mio elenco posso usare la funzione count e quindi quanti ce ne sono ce ne sanno n pari a elenco punto count di 7 la funzione count funziona sempre al massimo se non trova nessun elemento mi dice che non ce ne mi dice che n uguale a 0 mi istituisce un valore uguale a 0 altrimenti mi dice quanti elementi ci sono quindi queste tre funzionalità principali se io conosco un valore specifico posso sapere se c'è dov'è e eventualmente nel caso in cui ce ne fosse più di uno dove so quanti sono ok e in questo lo possiamo fare con le funzioni già predefinite viceversa invece a volte non cerco un valore specifico quindi fin quando nulla di nuovo in realtà queste funzioni le abbiamo già viste tutte le volte scorse però potrei voler ricercare un valore che abbia determinate proprietà ad esempio che sia maggiore di 100 mi pare che nella slide che abbiamo faccia esattamente questo esempio allora in questo caso non possiamo non usare le funzioni predefinite ce la dobbiamo costruire noi questa ricerca anche qua ci sono i vari casi voglio sapere se c'è c'è nel senso ce n'è almeno uno ce n'è almeno uno voglio sapere dove sono dov'è o dove sono voglio sapere quanti sono no sono le stesse domande dopodiché però il valore che sto cercando non è un valore specifico ma è un valore che soddisfa una certa proprietà che so un numero maggiore di 100 un numero pari un numero primo una stringa che inizia con una lettera maiuscola decidete voi il criterio di ricerca allora come posso comportarmi in questo caso il modo più semplice è non potendo usare le funzioni predefinite perché la funzione index la funzione in non ci permette di specificare una qualunque espressione ma ci richiede di specificare effettivamente un singolo valore cosa posso fare mi andrò a scandire gli elementi della lista no in questo esempio sto ricercando all'interno di una lista che si chiama values sto cercando se esiste un numero che sia maggiore di 100 no dove 100 è stato messo qua come variabile limit allora che cosa sto facendo qua sto facendo un ciclo vedete while pause minore di len incrementa pause quindi ho il ciclo in cui parto da 0 qua e vado a incrementare la posizione qui l'ho scritto con un incremento l'avrei anche potuto scrivere con un range no e va a prendere una per una tutte le posizioni e per ciascuna posizione va a prendere il suo valore values di pause quindi sarà values di 0 poi values di 1 poi values di 2 e così via e per ciascuno va a controllare se è maggiore del limite del 100 se trova appena trova nel caso in cui lo trovi un elemento che è maggiore di 100 maggiore di questo limite ha la risposta alla domanda la mia domanda era c'è o non c'è ce n'è almeno uno allora l'ho trovato perfetto e quindi potrò usare questa è una classica impostazione che usa una variabile logica flag di controllo che a un certo punto dice guarda l'ho trovato o la prova provata che l'elemento esiste perché l'ho trovato e proprio in questa posizione era maggiore del limite e quindi posso mettere found averlo trovato questo found averlo ha due effetti quello di mettere questa variabile logica una è quella di farmi uscire dal ciclo vedete che il ciclo qui c'è scritto and not found quindi sto continuando a cercare finché non lo trovo ok nel momento in cui found diventa vero questa condizione not found non l'ho ancora trovato diventa falsa e quindi questo and falso mi fa uscire dal ciclo while e esco dal ciclo while con il valore di found a true che è il valore che mi ha fatto uscire dal ciclo e quindi posso dirmi con sicurezza che ho trovato questo elemento e dirò anche la posizione in cui l'ho trovato perché è la posizione della variabile pause che è rimasta qua che era esattamente il valore che mi aveva reso vera questa disuguaglianza nel caso in cui invece l'elemento non ci sia nel caso in cui l'elemento non ci sia cosa succede? che questo ciclo qui va avanti questa condizione questo maggiore non sarà mai mai soddisfatto quindi il ciclo va avanti incrementa pause e il ciclo si interromperà quando diventa falsa la prima parte di questa condizione cioè ho raggiunto la fine della lista quindi io posso uscire da questo ciclo while per due casi o ho trovato un elemento ho messo found uguale true ed esco oppure ho esaurito gli elementi della lista non trovandone nessuno che soddisfacesse questa disequazione me ne accorgo qua sotto dal valore della variabile found perché se sono uscito perché ho trovato l'elemento found vale vero se sono uscito perché esaurimento degli elementi quindi non ho trovato l'elemento non ho trovato l'elemento che soddisfacesse di disequazione allora found non l'ho modificato e found continuerà qua sotto continuerà a avere il valore che aveva prima del ciclo while e io saggiamente l'avevo inizializzato a falso quindi l'unico modo l'unico caso in cui io posso trovare found a falso qua sotto è che ovviamente l'ho inizializzato a falso ma l'unico modo di arrivare qua sotto con found ancora falso è che questo ciclo while sia arrivato fino al fondo senza mai trovare nessun elemento ok questo è un approccio diciamo così per il nome di ricerca lineare cioè parto dal primo elemento vado avanti e ciascun elemento viene assaggiato viene controllato viene verificato e tipicamente avrò in questo caso c'è questa variabile che si chiama found una variabile logica qualcosa che mi tiene traccia del fatto che io abbia trovato oppure meno la condizione che stavo cercando questo meccanismo può essere chiaramente adattato anche in altri casi come ad esempio voglio ricordarmi quali sono tutti i valori maggiori di 100 allora cosa posso fare in questo caso se voglio trovare tutti i valori maggiori di 100 potrei costruire una lista nuova che non sono i values di partenza ma una lista nuova che contiene solamente i valori maggiori di 100 e come faccio a fare vabbè mi metto in piedi lo stesso meccanismo di ricerca lineare qui in questo caso ho usato la forma semplificata del for for element in values in modo che l'elemento mi va a prescare uno dopo l'altro i singoli i singoli valori presenti nella lista e tutte le volte che trovo un elemento questo element qua esattamente la stessa cosa torno indietro di values di pose chiaramente è il singolo valore di cui sto prendendo uno per volta all'interno della lista solo che prima ho ciclato in modo esplicito e qua invece ciclo in modo implicito con un for in perché prima ho ciclato in modo esplicito ma perché volevo poter uscire dal ciclo quando volevo io quando avevo trovato l'elemento e quindi avevo bisogno di una condizione di uscita che fosse più complessa quando arrivo alla fine della lista oppure quando ho trovato l'elemento mentre invece qui per contare il numero di elementi corrispondenti e salvarseli devo comunque sempre arrivare fino in fondo della lista anche se trovo il primo elemento posso comunque andare avanti devo andare avanti perché potrei trovarne altri in fondo e alla fine li voglio trovare tutti qui c'è scusate un problema di parentesi tonde perché queste parentesi in realtà in python non servono a niente quindi non è un errore però diciamo così non è il modo normale di scrivere questa cosa in python normalmente queste parentesi non ci sarebbero né qua né qua nella if non sono necessarie me lo scrivo così le cancello lo correggo dopo ok allora quello che stiamo facendo qui qui invece è una cosa diversa non sto calcolando una variabile logica found vera o falsa ma sto calcolando una lista che inizializzo vuota dico inizialmente ci sono dei valori maggiore di 100 non lo so inizialmente non lo so quindi non te ne so dare nessuno il risultato che sto calcolando inizialmente prima di guardare la lista è nessun elemento e poi via via che trovo degli elementi che siano effettivamente maggiore di 100 li posso aggiungere con la pend alla lista risultato quindi io quando arrivo al fondo di questo ciclo avrò la lista result che contiene una sottolista della lista di partenza cioè la lista di partenza magari c'erano 100 elementi qua ce ne sono solamente 17 che sono guarda caso i 17 numeri che sono maggiori del limite quindi in questo caso sto rispondendo alla domanda in realtà qua non c'è scritto quali sono non avevo scusate aggiunto la domanda specifica ovviamente nel caso di sopra il quali sono non aveva significato non aveva senso perché io sapevo esattamente qual era cercavo il 7 qui cerco invece dei numeri maggiori di 100 quindi magari non so se sono 101 190 2 milioni 308 quindi questo esempio qua risponde alla domanda il primo esempio quello che abbiamo fatto col found mettiamolo qua come diciamo così il nostro commento ci risponde alla domanda c'è o non c'è questo secondo esempio che abbiamo visto sulla slide diciamo quello che calcola result ci risponde alla domanda quali sono questi valori e quanti sono beh quanti sono è più facile che quali sono nel senso che e lo vedo qua sotto se io facessi lo stesso lo stesso identico ciclo in cui anziché memorizzare in una lista i singoli valori che ho trovato ma semplicemente quando trovo un valore uno di questi valori incrementassi un contatore che ovviamente avrò messo a 0 prima dell'inizio del ciclo alla fine avrò un valore che mi dice quanti elementi tra la lista erano maggiore di 100 erano pari erano numeri primi erano stringhe che iniziassero con la lettera maiuscola e così via quindi magari non mi interessa sapere esattamente quali sono mi interessa solamente sapere se c'è 0 1 7 eccetera e allora lo posso semplicemente usare un contatore incrementandolo in questo modo una variabile contatore che incremento in questo modo quindi rispondo alla domanda quanti sono counter l'esempio che c'era sulle slide che calcolava questo counter ovviamente questo counter che è esattamente la stessa cosa della lunghezza di result se guardiamo questi due esempi entrambi vengono attivati dalla stessa condizione quindi se prima avessi messo in questo result una lista che conteneva 17 elementi questo counter di sicuro vale 17 e viceversa quindi in realtà il primo è il caso un pochino più generale li metto tutti da parte se voglio sapere quanti sono vado a vedere quella lunghezza della lista result ovviamente alla fine del ciclo l'end result è esattamente uguale al valore di counter se però mi serve solo il valore allora non è il caso non è necessario che io vada anche a costruire la lista in cui mi salvo tutti gli elementi per poi non usarli non usarne il valore ma usarne solamente il loro numero sono tutte meccanismi in cui mi faccio a mano così con un ciclo alla ricerca lineare prendendo i vari elementi e man mano che li vado a scorrere mi salvo l'informazione che mi serve l'informazione che mi serve può essere semplicemente un valore logico c'è può essere un valore numerico quanti sono può essere un valore strutturato una lista quali sono e dove sono che era l'altra domanda che avevamo scritto qua ma la risposta non c'è nelle slide ecco il dove sono si risponde facilmente esattamente con questo meccanismo qua dove però appendo mi costruisco una lista che non contenga gli elementi bensì contenga gli indici degli elementi stessi gli indici che in questo ciclo for non ho e quindi dovrò usare un ciclo che lavora sull'indice con un range qui lo possiamo scrivere qua sotto qua nel nostro blocco note visto che non c'era nella slide avremo posizione in range lunghezza di si chiamava values per ciascuna posizione aggiungo in un vettore posizioni che inizializzo vuoto qua ciascuna posizione aggiungerò se la il valore quindi values di pos è maggiore di limit allora posso aggiungerlo alle posizioni pos la differenza qual è? che prima aggiungevo in questa lista i valori adesso invece aggiungo le posizioni quindi in questa posizione è una lista che contiene degli indici indici di posizione possiamo anche fare un programmino completo che usi queste cose così ce l'abbiamo anche come esempio e abbiamo qualche esempio un pochino più concreto quindi faccio un programma che si chiama ricerca dove posso definire una lista values che contenga dei valori che mi invento per semplicità 10 200 17 34 130 99 150 e 8 così con il limit appunto era 100 allora possiamo a questo punto vedere i vari tipi di algoritmi quest'ultimo che abbiamo scritto lo possiamo direttamente prendere andiamo a vedere che cosa mi genera questo se vogliamo è il caso più generale dei vari algoritmi di ricerca se io eseguissi questo programma mi da questo vettore 1 4 6 e 1 4 6 che cosa corrisponde corrisponde all'indice della posizione in cui ci sono i valori maggiori di 100 quindi posizione 1 è questa 0 1 2 3 4 è questa 5 6 è la settima posizione ok quindi queste sono le posizioni in cui si trovano gli elementi e quindi quanti sono e quanti sono è la lunghezza di questo vettore posizioni dove sono sono qua dove te l'ho detto quali sono allora per sapere quali sono potrei usare il codice precedente che c'era sulle slide che calcolava questo result vi ricordate quindi questo quali sono posso stampare questo result che viene calcolato aggiungendo non non la posizione ma l'elemento values di pose dove ovviamente si può scrivere nella forma semplificata for element in values che è esattamente come c'era nelle slide fa la stessa cosa semplicemente poiché mi interessa solamente il valore posso evitare di dovermi portare dietro l'indice e quindi aggiungo l'elemento quindi dove sono 1, 4, 6 quanti sono sono 3 quali sono 200, 130, 150 quindi sto trovando gli elementi che hanno questa proprietà proprietà che è definita esattamente da questa condizione qua questo è chiaramente un mattoncino di base tutte le volte che devo dire trovare un elemento in una in una lista in una struttura dati posso farmi una ricerca lineare con dei controlli e poi posso tenere traccia del conteggio della posizione o dei valori degli elementi che sto ricercando tra l'altro il vettore result si può ricavare facilmente dal vettore posizioni per sapere quali sono io mi sono calcolato il vettore result ma in realtà anche non calcolando il vettore result avrei potuto stamparmi quali sono iterando sul vettore posizioni for pose in posizioni quindi faccio un ciclo allora ho fatto fare a mano prima scusate per capire cosa stiamo succedendo posizioni di 0 che cos'è? posizioni di 0 è questo 1 quindi mi indica la posizione cioè l'indice della posizione in cui si trova il primo elemento e qual è il valore di questo elemento? e sarà values di posizioni di 0 il valore del secondo elemento sarà values di posizioni di 1 quindi qui uso diciamo così una indicizzazione annidata della lista io prendo il valore di una lista da usare come indice di una seconda lista ok? questo non ci deve stupire o spaventare più di tanto quindi io potrei stampare quali sono gli elementi facendo un ciclo sugli indici di line posizione e potrò stampare ciascun elemento come il valore che trova la posizione values posizioni di ok? quindi ho un vettore delle posizioni prendo con l'indice i una a una queste posizioni che a loro volta sono degli indici e uso questi indici per andare a pescare l'elemento corretto nel vettore values nella lista values ovviamente mi dà la stessa cosa 200 130 150 che sono quelli che avevo calcolato con il vettore result né più né meno questo per dire che dagli indici posso passare i valori facilmente semplicemente indicizzandolo lo posso scrivere così lo posso scrivere con direttamente un ciclo che itera sulle valori delle posizioni allora lo potrò semplicemente scrivere values di pose no in questo secondo values in questo secondo caso ho usato il ciclo semplificato che itera già sui valori contenuti all'interno del vettore posizioni quindi questo pose mentre i prima valeva 0 1 2 che erano gli indici qui dentro adesso qua pose varrà già i valori 1 4 6 e quindi sono già direttamente gli indici che puntano dentro la posizione di values questa ovviamente mi dà lo stesso risultato mi dà gli stessi identici tre valori di prima non confondiamoci tra indice e valore quindi dobbiamo sempre ricordarci avere bene in mente se una certa variabile ad esempio i rappresenta un indice all'interno di posizioni pose rappresenta un valore all'interno di posizioni ma a sua volta è un indice all'interno di values cioè noi facciamo attenzione a che cosa è indice che cosa è valore non dovremmo non dovremmo diciamo così confonderci o sbagliare ok ok andiamo avanti un'altra funzione che può essere utile è quella di cancellare degli elementi allora anche qua la volta scorsa avremmo visto come si faceva a cancellare un singolo elemento o usando la funzione pop che richiede l'indice dell'elemento da cancellare oppure usando la funzione remove che richiedeva invece c'è il valore dell'argomento da eliminare in quel caso eliminavo un elemento solo e abbiamo deciso quale allora sulla falsa di grigio che abbiamo appena scritto io provo a estendere questo nostro programmino cercando di eliminare tutti i valori questi qua maggiori di 100 ok quindi abbiamo fatto tanto fatica per ricercarli ma adesso li vogliamo cancellare allora che cosa potrei fare come primo tentativo fate attenzione perché questo è un errore che può saltare fuori un errore diciamo così di algoritmo io potrei dire vabbè ma io se so come trovarli alla fine per trovarli era facile no guardalo qua quando li cercavo bastava semplicemente fare for element in value se controllavo se è elemento maggiore di limite quando l'avevo trovato ci facevo qualcosa mi salvavo la posizione mi salvavo il valore aumentavo il conteggio insomma gli faccio qualche cosa allora questo qualche cosa potrebbe essere semplicemente quello di cancellarlo allora io potrei dire va bene facciamo la stessa cosa for element in values cosa faccio if element maggiore di limit lo cancello values punto punto cosa quindi potrei usare pop abbiamo detto oppure remove qual è la differenza tra pop e remove pop vuole l'indice e remove vuole il valore dell'elemento da cancellare ok entrambi cancellano l'elemento noi in questo caso se abbiamo impostato il ciclo for in questo modo l'indice non ce l'abbiamo perché abbiamo impostato un ciclo direttamente sui valori quindi potremmo usare remove e non pop se volessimo usare pop dovremmo impostare il ciclo lavorando sugli indici quindi lo scrivo sotto facciamo le due versioni for posizione in range length values tipico ciclo in cui ciclo sugli indici if values di pose maggiore di limit allora potrò fare values punto pop dell'elemento in posizione pose quindi cancella elemento in posizione pose mentre sopra non lo posso fare perché non ho il valore dell'elemento mentre invece qua potrò invece cancellare element di passo come argomento il valore dell'elemento a cancellare quindi cancella elemento con valore element ok allora queste cose qua funzionano vediamo se funzionano proviamo proviamo l'uno per volta proviamo il primo poi proviamo il secondo print di che cosa values quindi stamperò values all'inizio poi faccio questa cosa per cancellare e poi lo ristampo e vediamo che cosa succede ok mettiamo una print giusto per separare provo a cancellare quindi mi aspetterei prima chiediamoci cosa mi aspetto mi aspetto che visto che i valori sono questi cancellando gli elementi dovrebbero scomparire il 200 il 130 il 150 proviamo a vedere se è così faccio run quindi vedo 10 è rimasto 200 è scomparso il 17 è rimasto il 34 è rimasto il 130 è scomparso il 99 è rimasto il 150 è scomparso il 8 è rimasto quindi sembra giusto fatemi fare un'altra prova però questo 99 lo trasformo in 101 ok e rifaccio il nuovo run e questa volta è successa una cosa strana in questo caso il 101 è rimasto qua sotto l'avrebbe dovuto cancellare quindi il numero di maggiori di 100 li ha cancellati tutti ma il 101 no ma perché il 101 è qualcosa di strano no no perché se lo facessi anche il 199 ma il 101 solo di uno maggiore magari per quello no no anche il 199 rimane quindi questo programma non funziona così come non funziona quello sotto se io anche commentassi questa parte qui e scommentassi quella sotto quella che lavora sugli indici avrebbe lo stesso identico problema dunque stampato values perché non mi ha stampato values la seconda volta qua print values questa print qui quindi non me la stai facendo caro mio voglio cancellare dovrebbe stamparmelo qua sotto come seconda cosa sta succedendo allora ah ok c'è un errore qua ok ok scusate allora per rispondere a Damiano il run normalmente lo facciamo da questa riga 1 però quando ho già fatto run una volta lui mi crea questa finestra di run in cui questo tastino verde mi fa si chiama rerun cioè lo riesegue lo stesso programma di prima ok quindi se cambiassi da un programma all'altro ovviamente devo andare là per dirgli quale programma voglio eseguire ma una volta che l'ho eseguito nella finestra di run posso rieseguire il stesso programma ecco il problema è che c'era un errore qua dice list index out of range cioè il valore del list index quindi pause è fuori dal range dei valori ma come è possibile io io l'ho scritto così il valore di pause va da 0 alla lunghezza dei valori meno 1 quindi come può essere out of range cosa sto sbagliando ciò che sto sbagliando è che sto modificando il valore della lista su cui sto iterando allora mettiamoci nei panni guardiamo questo con gli indici che fosse più facile da capire e proviamo a vederlo in modalità debug passo passo ok quindi eseguiamo questo in modalità passo passo arrivo qui all'inizio e ho values chiaramente che contiene i miei valori 10 20 100 quel di prima e entro nel ciclo for e mi fa mi inizializza pause a 0 perché perché il range len di values vale appunto da 0 fino a 8 la lista vedete che vale contiene list 2.8 vuol dire che contiene 8 elementi quindi la sua len vale 8 pause vale 0 values di 0 vale 10 poiché il value di 0 vale 10 non è maggiore del limite quindi vado avanti andrò qui non faccio nulla vado all'interazione successiva pause uguale 1 ok pause uguale 1 scritto qua vado avanti questa volta values di 1 è 200 che sarà maggiore del limite e arrivo finalmente alla pop incriminata quindi sto eliminando l'elemento in posizione 1 e fin qui tutto bene perché l'elemento in posizione 1 è il 200 deve essere effettivamente eliminato ok e lo elimino ho eliminato il 100 vado avanti incremento pause e pause adesso vale 2 ecco l'errore pause vale 2 e l'elemento 2 è il 34 ma noi il 17 non abbiamo guardato il 17 era il vecchio elemento 2 ma facendo il pop dell'elemento 1 il vecchio elemento 2 è diventato elemento 1 e allora eliminando l'elemento in posizione 1 quello che prima si trovava in posizione 2 che adesso va a finire in posizione 1 dovrei guardarlo dovrei guardare lui ma la for non lo sa che deve far questo la for incrementa pause e quindi pause da 1 passa a 2 quindi io ho saltato l'elemento 17 e mi sto chiedendo a questo punto con pause uguale 2 se 34 è la maggiore di 100 il 17 non l'ho proprio guardato e vado avanti e passerò all'elemento successivo questa volta è il pause uguale 3 quindi è il 130 e cancellerò il 130 il programma cancellerà il 130 in posizione 3 e il 199 che era in posizione 4 dopo questo pop il 199 torna in posizione 3 perché ho cancellato il 100 il il valore precedente il 130 fin qui tutto bene se non fosse che quando torno su alla prossima iterazione pause viene nuovamente incrementato e vale 4 e quindi il valore 3 che era proprio il 199 colpevole non viene guardato non viene neppure controllato cioè ho saltato un elemento perché? perché il ciclo che ho impostato per diciamo così scandire i vari indici le varie posizioni lui non sa lui va da 0 a 7 un range di 8 va da 0 a 7 punto 0 1 2 3 4 poi io gli sto cambiando le carte sotto il naso gli sto dicendo guarda che tu dalla posizione 2 vai alla posizione 3 ma in realtà quello che stai guardando adesso nella posizione 3 era il vecchio posizione 4 e lui come fa a saperlo? infatti sbaglia infatti tra l'altro se io andassi avanti arrivo alla posizione quando pos vale 5 e sono nei guai perché quando pos vale 5 la lista dei valori ne contiene solamente più 5 quindi pos uguale 5 è già un valore non più valido perché? ma perché lui il range ovviamente lo calcola quando inizia il ciclo io dico il values è una lista quale è il suo valore? 8 creiamoci il range una volta che ha creato il range inizia a iterare lui non va a ricalcolarsi ogni volta questo questo range tutte le volte cambiando il values lui se ha creato questo range sa che sono i numeri da 0,7 e li esegue nel frattempo la lista si è ridotta e a un certo punto gli indici che lui prova a usare sono maggiori della lunghezza della lista perché la lista nel frattempo è dimagrita e questo è ciò che causa l'errore vedete che qua compare una saetta che ci dita attenzione che si è verificata un'eccezione e quindi il programma non si è fermato se vado nella console mi fa vedere appunto che l'eccezione era list index out of range che abbiamo visto prima cosa ci portiamo a casa da questo esempio ci portiamo a casa una regola molto semplice non modificare mai la lista su cui stai iterando se stai iterando con un ciclo for semplice di questo genere su una lista non modificare il contenuto della lista mentre stai iterando il contenuto degli elementi si potresti incrementare ma non ne aggiungere non ne togliere perché altrimenti la posizione degli elementi effettivi risulta non più in sincrono con gli indici di questa lista ok lo stesso problema ci sarebbe sopra funzionerebbe esattamente lo stesso identico problema ok che quando questo ciclo for che cicla sugli elementi lui si fa l'elenco degli elementi precedenti ma poi gli togli uno di sotto e lui non lo trova più lo stesso lo stesso problema quindi queste due soluzioni che sembrano le più semplici sono degli errori frequenti non bisogna mai modificare una lista una lista sulla quale si sta iterando con un for perché il for calcola il range all'inizio dell'iterazione se poi modifico la lista lui lo perde e quindi appunto il risultato o mi dà un'eccezione perché la lista finisce oppure non mi cancella tutti gli elementi eccetera eccetera quindi queste cose qua meglio le teniamo sotto forma di commento e ricordiamoci di non farlo mai più e allora come faccio perché poi un conto è dire così non funziona un conto è saperlo fare allora si può fare in diversi modi un modo è quello che viene proposto qua in questa slide dove cosa fa innanzitutto lui si fa un ciclo a mano con un ciclo while non usa un range per generare diciamo così tutte le possibili posizioni usa un ciclo while in cui vado a incrementare uno per uno i vari elementi in questo caso lui cancella le parole più brevi di 4 e non i numeri maggiori di 100 non cambia nulla e lui cosa dice se trovo un elemento che soddisfa la condizione cancellalo pop di i cancella l'elemento in questa posizione e poi non incrementa la i mentre invece se non trovo questo elemento quindi questa i è falsa e quindi vado nell'es invece incrementa la i cioè cosa sto facendo sto dicendo se non trovo nessun elemento vado avanti con la i con il mio indice in avanti quando trovo un elemento da cancellare lo cancello con la pop e poi non devo incrementare l'indice perché non devo andare avanti io con l'indice perché sono tornati indietro sono venuti indietro gli elementi avendone cancellato uno gli altri tornano indietro e quindi il mio i è già da solo nella posizione dell'elemento successivo quindi devo fare attenzione che all'interazione successiva posso che ovviamente devo tornare su a fare l'interazione successiva nel while ma l'indice è già quello giusto non lo devo incrementare successivamente che era il problema che faceva il ciclo for che incrementava l'indice in automatico sempre ad ogni iterazione e quando a questo punto saltava degli elementi perché gli elementi si sono spostati sotto il suo naso quindi quando io devo manipolare una lista aggiungendo elementi in mezzo cancellandoli eccetera cerchiamo di non farlo con un ciclo for ma ragioniamo bene sull'indice su che cosa deve fare su quando deve andare avanti e così via quindi questa è una possibilità ok mi gestisco l'indice a mano se vogliamo la controprova la possiamo provare a mettere nel nostro codice e dire allora proviamo a cancellare questi valori allora vado a vedere e vado a controllare che posizione fa un ciclo in cui la posizione è 0 while pause minore di length di values attenzione che essendo un ciclo while questa condizione viene rivalutata di nuovo viene riletta viene riconsiderata ad ogni singola iterazione quindi se anche values cambia se anche values dovesse cambiare perché diventa più corta questa condizione andrà ad ogni iterazione a controllare la lunghezza nuova aggiornata di values a questo punto if values di poso ormai l'abbiamo scritto mille volte maggiore di limit posso pop di pos e qui c'è la chiave di tutto è questo else pos uguale a pos più uno se lo facessi incondizionatamente senza l'else facessi il ciclo classico ciclo faccio delle cose e poi incremento riprodurrei esattamente il problema di prima che avevamo prima invece con questo else incremento solo se non ho cancellato l'elemento quindi solo se la lista non si è spostata all'indietro da sola quindi a questo punto possiamo addirittura azzardare che questo qua forse funziona stampiamo i valori vecchi stampiamo i valori nuovi e verifichiamo che è riuscito a cancellarmi anche quel maledetto 199 che aveva l'unica sfortuna di essere successivo un altro numero anch'esso maggiore di 100 il problema era quello che quando trovo uno più grande immediatamente dopo viene dimenticato viene saltato in questo caso funziona perché abbiamo gestito in modo oculato in modo controllato gli indici l'abbiamo fatto però gestendo a mano l'indice con un ciclo while e non in automatico con un ciclo for questo esempio è chiaramente un esempio un po' limite però tutte le volte che dobbiamo eliminare degli elementi in loop quindi eliminarmi più di uno devo sempre ricordarmi questa cosa se un ciclo for e dentro ciclo for modifico la lista sulla quale sto iterando 10 campanelli d'allarme faccio attenzione è la stessa cosa se dovessi inserire degli elementi nuovi chiaramente in questo caso magari la lista si allungherebbe quindi rischierei di considerare più volte gli stessi elementi e dimenticarmi gli ultimi perché sono stati aggiunti quindi quando dico non modificare la lista su cui stai iterando la modifica può essere una cancellazione o un inserimento di nuovi elementi oppure ovviamente posso evitare il problema del tutto dunque creare una coppia di Alexis mi dice nella chat potrebbe creare una coppia della lista sulla quale cerchiamo i valori per eliminare i suoi elementi mentre si conta tramite la funzione for sulla lista originale è un po' torta la frase ma io la leggo in qualche modo allora un'idea potrebbe essere provo a riscrivere così spero di aver colto l'idea elimino da values tutti i valori che sono in result no? perché noi avevamo fatto una lista result ve lo ricordate? era qua sopra che mi diceva quali result non result scusate che mi diceva quali valori c'erano maggiore di 100 allora ho un'altra lista che è questa result che contiene esattamente i valori che mi servono che voglio cancellare allora bello allora posso cancellare questi qui elimino da values elimino da values tutti i valori che sono in result cioè che sono cioè quelli da cancellare però ho gli stessi problemi ho gli stessi problemi perché se io facessi for elemento in values ah no scusate potrei fare così for element o for elemento da cancellare così sono chiaro in result due punti values punto remove di elemento da cancellare allora è vero che sto modificando la lista values dentro un ciclo for ma se faccio attenzione questo ciclo for non va sulla lista values va sulla lista result che non la lista result la quale non cambia in questo ciclo for ok oppure la stessa cosa la posso fare sulle posizioni for posizione in si chiamava posizione vi ricordate il vettore che conteneva le varie posizioni le posizioni che corrispondono agli elementi che voglio cancellare ok values punto pop di pause quindi di nuovo in questo ciclo sto modificando la lista values ma il ciclo viene fatto sulla lista posizioni che è diversa la quale la lista posizioni non viene modificata dentro il ciclo for e quindi qui sono al salvo sono al salvo perché perché un pochino come diceva Alexis sto come si dice usando una lista di appoggio una seconda lista in cui parcheggio i valori che voglio cancellare e poi dopo li cancello ok c'è un altro modo un'altra idea costruisco una nuova lista che contiene solo i valori che devono sopravvivere cioè anziché cancellare quelli che non mi piacciono costruisco un'altra lista in cui ci siano solamente quelli che mi piacciono quindi ad esempio in questo caso prendo faccio una nuova lista nuovi valori new values visto che values è in inglese chiamiamolo in inglese una nuova lista che inizialmente parte vuota e vado a prendere tutti gli elementi in values e solamente se non sono maggiore del limite allora aggiungo a questo new values l'elemento quindi ho cambiato approccio anziché modificare quella lista ne creo un'altra nuova tranquilli quella lista non la tocchiamo non facciamo casino ne creo una nuova dentro la quale ci metterò solamente gli elementi che non erano da cancellare da quell'altra per questo ci ho messo un note qui chiaramente al posto del note potrei mettere un minore uguale nella condizione e allora anche qua qui dentro un ciclo sto creando questa lista quindi sto modificando la lista new value ma il ciclo non è su new value bensì su values qui non ho problemi values invece non sta cambiando dentro questo ciclo c'è sempre questa distinzione ho due liste diverse una delle quali è la lista sulla quale sto iterando l'altra è la lista che sto modificando aggiungendo cioè creando elementi oppure cancellandoli c'è una domanda interessante di Andrea che mi chiede ma guarda che non è che qua dopo il primo pop capita lo stesso problema che avevamo prima visto che ci abbiamo perso mezz'ora di mal di testa su quel pop che ci saltava gli elementi no perché io sto iterando su questo vettore posizioni che ricordiamoci posizioni era questo e quindi cosa sto facendo sto facendo no hai ragione non funziona questo scusate non funziona mi rimangio tutto perché cosa succede lui la prima volta farà pop di 1 e va bene la seconda volta fa pop di 4 ma non è più il 4 dovrebbe essere il 3 perché quello che prima era il 4 che volevo cancellare è diventato adesso il 3 perché è tornato indietro di una posizione quindi sto hai ragione Andrea sto cancellando gli elementi sbagliati per farlo giusto dovrei cominciare a cancellare dal fondo cancello il 6 poi cancello il 5 poi cancello il 4 poi cancello l'1 ok è chiaro a tutti cosa ho sbagliato io avevo inizialmente pensato a questa lista qui la metto qua come commento e in questo ciclo sto facendo una serie di pop il primo pop che faccio è dell'elemento 1 perfetto lo poppiamo via il secondo pop che faccio è dell'elemento 4 0 1 2 3 4 cancello questo attenzione in realtà avrei dovuto questo 4 corrispondeva al 130 perché prima era in posizione 4 adesso non lo è più e quindi ho sbagliato ho cancellato l'elemento sbagliato infatti adesso faccio il pop di 5 0 1 2 3 4 5 cancello l'8 poverino che se stava tranquillo in fondo e poi quando farò il pop di 6 avrò un errore quindi questo è sbagliato il modo giusto di farlo è quello di partire dal fondo quindi inizio a cancellare il 6 poi il 5 poi il 4 poi il 1 e allora proviamo a invertire la lista posizioni quindi creo il range al contrario e quindi partirà prima cancella il 6 0 1 2 3 4 5 6 quindi cancella il 150 poi cancella il 5 0 1 2 3 4 5 cancella il 199 poi cancella il 4 vedete che è vero che il pop sposta gli elementi ma sposta gli elementi in una zona in cui non vado più a toccare perché sto tornando indietro e quindi in questo caso giustamente se devo cancellare gli elementi devo partire dal lato opposto ok grazie per la correzione Alexis mi dice si potrebbe inizialmente creare una lista di elementi da cancellare per eliminare con la funzione remove esattamente ciò che ho fatto qua alle righe 51 e 52 che non hanno questo problema perché usano remove e quindi lavorano sul valore da cancellare anziché sulla posizione c'era un altro commento un'altra domanda un'altra domanda di non mi ricordo più chi fosse diceva di Giulio che mi dice ma come possiamo capire qual è il metodo più conveniente tra tutte queste alternative più conveniente Gigi Giulio dal punto di vista computazionale cioè dal tempo di esecuzione qual è il metodo più veloce allora io metto le mani avanti prima di tutto mi devo preoccupare su qual è il metodo giusto corretto che mi dà il risultato corretto ok poi tra tutti i metodi che mi danno il risultato corretto posso scegliere quello migliore quello migliore innanzitutto sicuramente posso considerarlo migliore se è più veloce ma posso anche considerarlo migliore se è più chiaro da scrivere se è più semplice da scrivere ok quando devo trattare una quantità di dati limitata non esagerata non enorme è molto più importante la chiarezza del codice la semplicità la facilità di comprensione che non il tempo di esecuzione perché se passiamo da 2 microsecondi a 1,8 microsecondi non ci cambia assolutamente nulla in realtà ho parlato di microsecondi ma questi programmini qua sono ancora più veloci ok quindi non preoccupiamoci mai troppo presto del tempo di esecuzione di un programma mi ne preoccupo quando comincia a essere lento quando comincia a lavorare su dati massivi e allora devo cercare di ottimizzare le operazioni per chi fa informatica c'è il corso apposto di algoritmi strutture dati che ragiona sulla complessità dei programmi e quindi la complessità degli algoritmi che li elaborano con questo non voglio eludere la risposta ma voglio metterla nel contesto giusto cioè è importante soprattutto che il programma sia corretto leggibile semplice e chiaro poi se è anche veloce è meglio però la velocità non deve andare a scapito della chiarezza ma è sicuramente della correttezza perché se è velocissimo ma fa la cosa sbagliata è un problema però per risponderti nel merito ci sono alcune operazioni chiaramente che sono atomiche istantanee e alcune operazioni che invece richiedono un certo tempo di esecuzione in più perché richiedono che internamente python faccia una scansione lineare degli elementi di una lista ad esempio un'operazione di pop comunque la facciamo che sia una pop o una no un'operazione di pop cosa la fa? trova un elemento e poi tutti gli altri devono spostare in una posizione allora capite che spostare gli elementi in una posizione ha un tempo di esecuzione che è proporzionale alla lunghezza della lista non è un'operazione unica come dire count uguale count più uno l'operazione di append per contro è un'operazione che va a modificare solamente dove era un append che va a aggiungere un elemento in fondo quindi quello ha un tempo di esecuzione pari a un'unica operazione non deve spostare dati quindi l'append ha un tempo di esecuzione diciamo così istantaneo corrispondente a una singola operazione una pop ha un tempo di esecuzione che è proporzionale alla lunghezza della lista l'operazione di remove è ancora più lenta della pop perché io gli do l'elemento quindi prima lui si deve trovare l'elemento e quindi fa una scansione della lista per trovare la prima posizione dell'elemento e poi deve spostare gli altri elementi una volta che la cance l'altro deve spostare gli altri elementi indietro quindi di fatto fa due volte necessariamente la scansione della lista uno per trovare l'elemento e l'altro per spostare gli elementi quindi dal punto di vista puramente prestazionale pop è più veloce di remove poi in realtà qui abbiamo fatto una pop dentro anche qua abbiamo preso una lista l'abbiamo invertita invertire una lista ha un suo costo perché bisogna spostare tutti gli elementi dalla prima all'ultima posizione quindi ha un costo che è proporzionale alla lunghezza della lista stessa quindi ci sono operazioni che hanno un costo proporzionale alla lunghezza della lista altre che invece non ce l'hanno ad esempio appunto values di pop maggiore di limit semplicemente vado a prendere l'elemento lo confronto è un elemento singolo non devo né leggere né analizzare né spostare gli altri elementi della lista stessa però tornerei al punto di partenza finché la lista ha 10 elementi 100 1000 non ci accorgiamo di queste differenze e soprattutto per il tipo di algoritmi che stiamo facendo ok salviamo questo quindi ciò che sembrava ricercare un elemento oppure cancellarlo più o meno sono la stessa cosa purtroppo abbiamo scoperto che non sono per nulla la stessa cosa un'altra operazione frequente ma su questa diciamo così per fortuna non ci dobbiamo perdere così tanto tempo perché è più semplice è scambiare tra di loro degli elementi immagino per scambiare il primo elemento con il secondo e così via nell'esercizio sulla rubrica che vi ho proposto la volta scorsa ricorderete che c'erano i comandi più e meno che vi chiedevano di prendere un nome e spostarlo in avanti o spostarlo indietro all'interno della lista e quindi devo scambiare un valore che è in una posizione attualmente i con un valore che è in una posizione invece attualmente j come faccio a fare questo scambio ad esempio sulle slide ci fa vedere un ipotetico scambio tra il valore 54 che è nella posizione 1 quindi i e il valore 29 che è nella posizione 3 quindi j allora io devo prendere il 29 e metterlo nella posizione 1 e il 54 metterlo nella posizione 3 per poter fare questo scambio ovviamente mi servirà una variabile di appoggio esterna che è chiamata una variabile temporanea che è chiamata temp perché se io scriverò valiusd uguale a valiusdj valiusd è questa cella qua uguale a valiusdj che è quella sotto la 29 sto prendendo e lo sto copiando nella cella 1 fare questa operazione distrugge il valore che c'era nella cella 1 ovviamente e quindi se io non me lo fossi salvato prima il vecchio 54 qui l'avrei perso perché non compare più nella lista ma me lo sono salvato e quindi essendomelo salvato potrò successivamente andare a mettere nella posizione j il valore temporaneo che mi ero salvato quindi questo significa che quando devo scambiare due variabili due variabili in questo caso sono due posizioni all'interno di un vettore di solito devo fare un giro a tre un giro a tre variabili salvo il primo valore copio il secondo sul primo e poi prendo il valore salvato e lo metto al posto del secondo questo in generale questo vale in qualunque linguaggio di programmazione in python abbiamo come spesso capita una scorciatoia che era quella di usare la sintassia tuple di cui tra un attimo vedremo qualche dettaglio in più proprio per fare questi scambi noi abbiamo già usato la sintassia tuple per fare assegnazioni multiple quando abbiamo visto ad esempio i valori di ritorno dalle funzioni un valore di ritorno multiple di una funzione permetteva di ritornare più valori mettendoli in una coppia in una tupla in un ennupla e poi andando a spacchettare i singoli valori ecco questo meccanismo di impacchettare una tupla e poi spacchettarla funziona in generale non funziona solamente sulle funzioni e quindi quando voglio scambiare due variabili posso semplicemente scrivere non potrei scrivere a uguale b a capo b uguale a perché perderai un valore dovrei avere una variabile intermedia ma se scrivo metti nella coppia a b spacchetta nella coppia a b la coppia di valori b a e beh allora python prima crea questa coppia mettendoci prima b e poi a poi la spacchetta spacchettando il b nella prima posizione che va a finire in a e spacchettando l'a nella seconda posizione che va a finire in b questo spacchettamento avviene in parallelo e quindi i valori se li ha già salvati lui da solo e ce li mette nelle due variabili quindi è abbastanza comune in python quando devo fare uno scambio di due variabili usare un'assegnazione di composta di questo genere sia che funziona sia per variabili semplici però è raro voler scambiare dei valori di due variabili semplici sia per variabili valori contenuti all'interno di una lista quindi qui vedete che values di i virgola values di j uguale values di j virgola values di i quindi a destra prende i due valori li mette in ordine inverso e li riassegna le stesse due posizioni in cui gli indici sono scambiati e quindi questi valori a loro volta si scambieranno questa è semplicemente una scorciatoia che però ci può far comodo quando dovremo spostare gli elementi all'interno della lista quindi nell'esercizio della rubrica la volta scorsa per i comandi più e meno tornava utile fare un'operazione di questo genere e se non vi ricordate questa operazione come sempre succede se non vi ricordate una scorciatoia o una funzione particolare potete sempre farvelo a mano con lo scambio di tre valori come sono indicati in queste due slide che è il metodo classico che funziona in qualsiasi linguaggio di programmazione ok dunque fatemi no aggiungo a loro scambio solamente un argomento con un altro perché così occupiamo questi cinque minuti e vi parlo visto che parliamo di scorciatoia di python vi parlo di questa scorciatoia che ha un nome strano che si chiama comprehension che ci semplifica la vita in molti casi anche proprio per fare le operazioni che dicevamo prima di cancellazione inserimento creazione eccetera eccetera allora la comprehension in python è una sintesi particolare per creare una lista noi abbiamo molto spesso del codice fatto in questo modo for append cioè creo una lista all'interno di un ciclo appendendo uno dopo l'altro gli elementi che mi servono ok noi ce l'avevamo nel nostro esempio l'ultimo esempio che abbiamo fatto era fatto così dentro una lista new values ci voglio mettere gli elementi che mi piacciono quelli cui valore era maggiore del limite allora mi creo una lista vuota mi genero gli elementi che mi servono in qualche modo e per ciascun elemento di quelli che ho generato lo aggiungo alla lista in questo caso in realtà è un passo in più for if append ci sono dei casi più semplici in cui devo semplicemente fare for append guardate questo esempio che c'è qua sulla slide in cui ho una lista di stringhe che contiene i giorni della settimana e mi voglio creare una lista di numeri interi che contiene la lunghezza in termini di caratteri di questi giorni quindi lunedì 1, 2, 3, 4 sono 6 caratteri martedì sono 7 caratteri se non sbaglio mercoledì sono di più sono 8, 9 eccetera e quindi voglio creare una lista che conterrà 7, 8, 9 le varie lunghezze di queste stringhe ok e lo posso fare facilmente se vogliamo possiamo traslarci questo esempio direttamente in python chiamiamole comprehension visto che poi l'esempio ci porterà a quello quindi ad esempio abbiamo i giorni che sono lunedì virgola martedì virgola mercoledì giovedì dai lo sto scrivendo sabato domenica ok quindi una lista dei giorni e voglio costruirmi che è qua sotto voglio costruirmi una seconda lista in cui ci sono le lunghezze di questi giorni allora la costruzione è 0 for giorno in giorni lunghezze punto append line di giorno di giorno sì e quindi questa lista di lunghezze conterrà dei valori che corrispondono mancano due punti che corrispondono alla lunghezza in termini di numero di caratteri di questi giorni della settimana fin qui nulla di nuovo però che cosa abbiamo abbiamo uno schema un blocco che useremo tantissimo inizializza una lista vuota for qualche cosa appende dentro questa lista ok questo blocco qui si può diciamo così semplificare con un'unica istruzione che appunto prende il nome di list comprehension non so come tradurre comprehension in italiano quindi lo teniamo così che si scrive così lunghezza è uguale stringa giorno for giorno in giorni scusa len giorno for giorno in giorni cioè sto mettendo una specie di ciclo for dentro una lista dentro la definizione di una lista questa riga è equivalente a queste tre righe nel senso che io sto creando una nuova lista lunghezza è uguale aperta quadra ho creato una lista dentro questa lista ci metto degli elementi cosa sono questi elementi? guardate cosa ci mettevo nell'append len di giorno e cosa ci metto dentro questo elemento? len di giorno quindi dentro la parentesi quadre ci ho messo l'elemento len di giorno così come prima lo mettevo nell'append e però questo giorno da dove arriva? arriva da un ciclo in cui questo valore viene preso iterando su un'altra struttura dati su un'altra lista e qua lo devo spiegare lo specifico anche qua quindi crea una lista che contiene delle lunghezze di una variabile la quale variabile è presa da una lista giorni da un'altra lista giorni questo giorno qua ovviamente può essere qualunque cosa questa variabile chiamiamola x è la variabile di controllo del ciclo diventa una variabile libera un po' come quando scriveva una funzione f di x il nome del parametro lo possiamo scrivere lo possiamo cambiare non ha nessun significato è un valore è un nome che rimane locale dentro questa sintassi della comprehension è solo un nome di comodo per poter iterare sopra la la stringa io lo rischio di nuovo giorno perché così si vede meglio l'equivalenza però quello che è importante è questo giorni qua cioè la lista di partenza da cui abbiamo creato le cose e quindi questo qua ovviamente mi stamperà la stessa identica cosa se io aumentassi questa parte qui e eseguissi quest'altra istruzione ovviamente la mi crea esattamente la stessa lista di valori qua sotto in una forma chiaramente più breve in un caso l'ho chiamata una scorciatoia e quindi in generale l'espressione di una list comprehension crea una lista con questa espressione qua una lista nuova aperta quadra chiusa quadra quindi mi fa capire che sto creando una lista un'espressione che mi dice quale elemento che cosa ci metto dentro la lista e poi un'espressione di iterazione che mi permette di andare a pescare questi valori da qualche parte qui vediamo sulla destra delle equivalenze quindi il codice di prima ci fa vedere che for giorno in giorno questa parte rossa di iterazione è andata a finire qui l'argomento dell'append cioè il valore che ci voglio aggiungere che ho riquadrato qua in verde viene messo invece come prima parte dell'espressione della comprehension e qui anche nel senso che qui ho aggiunto for giorno in giorni aggiungeva creava una lista che conteneva i nomi invertiti al contrario vedete lunedì martedì mercoledì scritti a rovescio qua perché aggiungeva in questo caso questo secondo esempio costruiva una lista di stringhe queste stringhe erano i nomi della settimana i nomi di giorni della settimana girati al contrario invertiti e quindi questa lista di invertiti conteneva delle stringhe e quello che è importante è l'argomento dell'append perché l'argomento dell'append è effettivamente il valore che ci sto aggiungendo e qui fa vedere che anche qua questo argomento dell'append anche se è una cosa diversa una stringhe invertita lo metto come primo parametro di questa espressione ok quindi ogni volta che abbiamo troviamo già costrutti di questo genere crea una nuova lista for qualche cosa appende dentro questa nuova lista dell'elemento posso usare questa sintassi semplificata diciamo di una riga in realtà questa sintassi è anche un pochino più ricca perché come sapevamo molto spesso e come ad esempio nell'esempio di prima nel nostro esempio della ricerca avevamo crea una nuova lista iterando su una lista esistente solo se gli elementi hanno certe caratteristiche if not element maggiore di limit ok allora faccio l'append quindi c'era questa clausola if in più che in realtà è molto frequente perché non è detto che devo creare una nuova lista esattamente con gli stessi elementi di prima perché magari elaborati ma sono sempre gli stessi di prima allora in questo caso la sintassi della comprehension supporta anche una clausola if quindi in questo caso avrei potuto scrivere new values uguale una nuova lista che contiene degli elementi questi elementi sono presi dalla lista values solo se e qui ci aggiungo l'if not element maggiore di limit for element in values quindi qui ho aggiunto un altro pezzettino poi basta non si può costruire a piacere mettere qualunque cosa dentro questa parente di quadre posso solo avere il valore la clausola for e la clausola if e basta però già solamente questa combinazione qua mi permette già di diciamo così semplificare molti costrutti da più righe qui è molto più chiaro che cosa sto facendo sto costruendo è un po' sembra quasi poi quando scrivete gli insiemi in matematica l'insieme che contiene i valori di x tali per cui appartenente a r che abbiano questa proprietà a maggiore di 0 quello che è quindi può essere in parte condivido il commento di Andrea che dice ma a me sembrava più chiaro questo invece tu mi dici che questo qua è più chiaro dipende un po' anche dall'abitudine e dallo stile di scrittura da un certo punto di vista una comprehension fa una cosa e una cosa sola cioè crea una nuova lista crea una nuova lista e mi dice quali sono gli elementi da dove li prendo e qual è la condizione per metterli sono le stesse cose che ci sono qua però qua sono sparsi su quattro righe alcuni possono trovare più chiaro la prima versione alcuni possono trovare più chiaro la seconda versione sicuramente esagerando con queste scorciatoie il codice diventa forse un pochino più diciamo così difficile da decodificare per alcuni magari per quelli che sono un po' meno diciamo così addentro al linguaggio alla specificità del linguaggio potete ovviamente usare la forma che volete io ve la presento solo come scorciatore perché molte volte una volta che uno ha capito che cosa deve fare devo creare una lista così e così ogni volta creare questo può essere pesante perché poi noi non concentriamoci solamente su questa singola istruzione questa istruzione è all'interno di un programma più grande e quindi magari non voglio perdere il filo del programma più grande per un'operazione così semplice come sarà la costruzione di una singola lista però sono assolutamente come tutte le scorciatore le puoi prendere o non le puoi prendere dipende poi anche dai casi dai contesti essenzialmente ok quindi questa è l'espressione completa i valori su cose itero e quali sono le condizioni poi in realtà volendo in realtà si può ancora complicare aggiungendo più più condizioni for ma questo sicuramente non lo vado a consigliare perché si creano praticamente dei cicli annidati dentro la comprehension lì qui effettivamente comincia a diventare molto più criptica la cosa quindi non stupiamoci da adesso in avanti magari per comodità tenderò a usare a volte anche questa espressione qua una volta che abbiamo l'importante che noi a monte abbiamo capito molto bene che quello che stiamo facendo in realtà è questo creo una lista aggiungendo un elemento per volta poi se lo scrivo su quattro righe o se lo scrivo su quattro righe corte o se lo scrivo su una riga lunga già tutto sommato poco cambia ok ok no quindi ho voluto dedicare questi ultimi dieci minuti al tema delle comprehension solo per snellire la sintassi in alcuni casi adesso direi che visto l'orario possiamo prenderci una pausa e nella seconda parte dell'ora affronteremo due argomenti che sono l'interazione tra liste e funzioni e poi le liste di liste dette anche tabelle che ci permetteranno anche di fare altri tipi di esercizi anche più interessanti quindi se non ci sono domande al momento su questa parte qua io mi fermerai qua darei il solito quarto d'ora 15 minuti giù di lì di intervallo cerco di riuscire a prendermi un caffè anch'io se voi siete a casa ce l'avete più comoda io devo correre fino alle macchinette ma spero di farcela in tempo ok quindi stoppo la registrazione ci rivediamo tra circa 15 minuti grazie